Elegant Innovation, questo è il titolo della nuova edizione 2016 delle Salon della Mod, evento ideato da Gabriella Chiarappa e che si è svolto il 28 febbraio a Roma a Palazzo Ferraioli. La Psical Dance Presentatrice della serata, Metis Di Meo, conduttrice Rai E cominciamo subito con la prima sfilata, Carlo Alberto Terranova Germano Gioielli Borse di F e L di Franco e Laura Natascha Timofeeva, brand, ospite international Alessandra Ciani Couture presenta Sposa d'autore Gio Filangeri, Maison Lombardi, Haute Couture Sogno di una notte di mezza estate Grazie a tutti i miei Suite cura di nào川 Awesome, perché c'è la tua cultura gioux Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.